Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a La Mezza Terme, nella sede di TIP, che sarebbe un teatro, giusto o no? Sì, il TIP teatro è un luogo ampio, nel senso che comprende oltre che il teatro, la sala e anche la biblioteca dello spettacolo, una piccola galleria d'arte, spazio espositivo nel corridoio, angolo book crossing, insomma c'è tanto tanto al TIP diciamo. Tu sei Dario Natale e in questo contesto, proprio in questo spettacolo teatrale che va in scena questa sera, che si chiama Casiclinici, interpreti Android, che ora ci spiegherà esattamente chi è e soprattutto la personalità di questa rappresentazione, che è alla terza rappresentazione e che comunque è un work in progress poi alla fine, da quello che mi ha detto Antonio. E allora, Casiclinici è l'esito di laboratorio di Calt 3.3 del cantiere laboratorio teatrale, seguito da Antonio e da altri ragazzi, da me coordinato. Sì, Casiclinici è un'offerta che hanno fatto spontaneamente tutti i componenti del gruppo, portando dei testi a loro congeniali che sentivano di dover raccontare, di dover dire e che sono stati poi assemblati in fase di prove. E il risultato è quello appunto, il filo rosso che collega tutte queste storie, appunto sono questi due personaggi che sono Malone, che è Antonio, e Android che sarei io, da lui creato, tra l'altro, perché sono un'intelligenza artificiale diciamo. Una creatura che però poi perde vita. No, diciamo che io rimango tale, proprio perché alla luce insomma di un'alba post-atomica, dopo una sciagura planetaria, questi personaggi si ritrovano così nella... C'è un caos in cui io e Malone siamo gli unici reali sopravvissuti e decidiamo, dopo aver osservato tutto ciò che ha portato a quello sfacelo dal nostro bunker e dai nostri terminali, decidiamo di uscire fuori e di provare a far rivivere queste nuove persone affinché diventano i coloni di una nuova vita sulla terra, diciamo. E anche la cosa curiosa è che praticamente sono, in questo caso potrebbero essere anche definiti i sopravvissuti dello scioglimento, di uno scioglimento dei ghiacci o di qualcos'altro. Guarda, alle volte se tu vedi dici sono i sopravvissuti che cercano di rianimare, un po' come anche la politica attuale, ma in generale dare speranza a qualcosa che comunque sembra apparentemente morto, ma in realtà c'era la vita all'interno di sé. Sì, sì, per cui questi personaggi di volta in volta fatti da me e Malone, da Android e Malone, fatti resuscitare, diciamo così, diventeranno poi coloni di una scommessa di nuova vita sulla terra, diciamo, una nuova comunità. Ultima domanda, perché poi vorrei che le persone vedessero lo spettacolo, perché devono avere l'idea di questi personaggi che, come dicevamo prima con Antonio, possono essere arricchiti da nuove figure, da nuove, non lo so, maschere. Ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa di quelli che hai fatto resuscitare? No, sono sinceramente affezionato in ugual modo a tutte quante, perché ognuno di loro rappresenta chi è una donna nostalgica, chi è una donna che ha subito ingiustamente dei percorsi terapeutici obbligati, chi invece è semplicemente una donna che vuole essere se stessa, oppure è un uomo incontentabile che non scende a compromessi. Sono tutte delle tipologie umane che, insomma, in cui possiamo rispecchiarci tutti. Si può far parte di questa compagnia di Atrale o venire qui a partecipare attivamente ed essere noi teatro, ecco, le persone, insomma, che vi guardano venire dall'altra parte e salire sul palcoscenico? Guarda, c'è una parte di noi che anela sempre alle tavole del palcoscenico, in qualche maniera, e lo si può fare in questo caso magari sì, venendo a vedere degli spettacoli, oppure partecipando ad una fase laboratoriale che non è mai una fase di costruzione o di inibizione della spontaneità della persona e piuttosto, anzi, i nostri percorsi didattici, chiamiamoli così, servono proprio a far prendere consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie attitudini e soprattutto a liberare quei freni inibitori che in cui troppo spesso ci trattengono, in cui ci osserviamo, ci controlliamo, eccetera. Il lavoro di gruppo serve proprio a sciogliere, a far trovare quel gusto, quel sano godimento dello stare insieme agli altri, condividere lo stesso spazio, magari con delle piccole regole che servono soprattutto a migliorare la possibilità di poter dialogare tra persone. E questo sì, è un invito, sì, l'invito è quello di chi vuole venire anche al TIP, che tra l'altro attualmente è l'unico spazio aperto in città in questo periodo che abbia un po' di possibilità espressive da questo punto di vista, che è dare, mettersi in contatto con noi anche solo per stare qui, godere di questi libri, di questi DVD, di questo ambiente, oppure perché no, volendo anche partecipare ai nostri laboratori. Poi comunque mi faccio di venire in mente adesso che lo spettacolo si chiama Casi Clinici, quella che fate voi alla fine è come se fosse anche una terapia, fondamentalmente per far uscire quello che la persona ha dentro e magari metterla in correlazione con la realtà, col mondo. Sì, sì, un teatro nell'eccezione di famiglia, di cuore, ha sempre questa valenza, quando laddove teatro è forma per tirar fuori, invece amplificare le proprie vanità o per diventare uno strumento, un mestierante della scena con la voce portata, la dizione, eccetera, si diventa poi dei replicanti fino a se stessi. Ecco, vedi, hai fin concluso con una cosa giusta, tu sei android, teoricamente dovresti essere un replicante, ma alla fine hai il cuore, cosa che invece manca a molte persone. Io ti ringrazio davvero del tempo che ci hai dedicato, io veramente invito tutti a partecipare attivamente, non soltanto alle attività di tip, ma proprio di vedere questo spettacolo teatrale e quelli che ne verranno subito dopo, perché penso che sia un'attività sempre in continua evoluzione, giusto? No, certo, certo, certo. Poi va detto che il nostro è uno spazio che comunque agisce su una spazialità molto più ampia che è quella di questo territorio che, insomma, da dove parliamo adesso. Ci siamo raccordati con molte realtà nazionali, ospitiamo gruppi di caratura nazionale, domani sera ci sarà uno spettacolo molto bello, c'è sabato 3, l'hotello Alza de Cammina con Gaetano Ventriglia, che tra l'altro è già qui, per cui è una sorta di trampolino se vogliamo. Perfetto. Grazie ancora, liberi.tv, Riccardo Cristiano, La Mezzia. Grazie.